segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te arti sociali poco fa pochi minuti fa maurizio landini segretario della cigelle se necessario arriveremo allo sciopero generale farinetti lo sciopero generale una buona idea ma i grandi scioperi generali quando non ci sono vere e proprie motivazioni di sfruttamento dei lavoratori eccetera su queste visioni alte della politica e non le trovo mai non le trovo mai utili non le trovo mai utili però però è giusto è giusto lasciare la possibilità a chi fa sindacato di decidere di fare una roba di questo genere io non credo che questo possa portare a risultati brillanti e mentre sarei favorevole ad una cooperazione tra vista ho visto questa vista questa presa di posizione di salvini ad una maggior cooperazione tra opposizione e governo sui problemi veramente pesanti nel nostro paese che sono prima di tutto la l'immigrazione secondo tema noi abbiamo e abbiamo ancora una delle sanità migliori del mondo ma in una situazione di di crisi resti a guardare oggi pomeriggio perché ce ne occupiamo ampiamente abbiamo deciso di dedicare una pagina quella è un'altra grande emergenza eh sì abbiamo anche noi questa sensazione cioè io la vedo un po' come una situazione piuttosto grave di tre o quattro elementi di crisi ma sa crisi come scrivo io nel mio libro deriva da crisis greco che vuol dire scegliere bisogna fare delle scelte di fronte alle crisi cioè voglio dire immaginiamoci la situazione del cui si è trovato davanti Obama per esempio con la grande crisi la grandissima crisi di le manbrada eccetera degli stati uniti fu un problema enorme fece un progetto lo cavalcò e lo risolse Reagan si trovò di fronte ad un'altra crisi molto forte prese un progetto lo mise in atto e ebbe ebbero sia Obama con l'opposizione dei repubblicani sia Reagan con l'opposizione dei democratici ebbero godettero di un momento di cooperazione cioè c'è il paese da salvare per esempio io che vivo molto negli stati di america che ha i suoi difetti eh tuttavia nei momenti di 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 problematiche importanti che minacciano proprio la salute dell'intera nazione loro fanno abbastanza squadra questo momento così opposizione maggioranza di governo dovrebbero collaborare insieme per tre quattro punti qualificanti che possono rimettere in piedi il paese mi apri